All'Aquila nel periodo festivo è stato introdotto l'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto in alcuni giorni e fasce orarie. 24, 25 e 26 dicembre 2021 dalle ore 10 alle ore 22. Per fine anno è obbligatorio l'uso della mascherina all'aperto dalle ore 10 del 31 dicembre fino alle ore 22 del 1 gennaio del nuovo anno. Mentre è anticipato l'orario dell'obbligo della mascherina all'aperto dalle ore 8 alle ore 22 il giorno 5 gennaio 2022 in occasione della fiera dell'Epifania. Il 6 gennaio, ultimo giorno festivo, torna la mascherina d'obbligo all'aperto dalle ore 10 alle ore 22. Le aree interessate dall'ordinanza sono quelle del centro storico aquilano, descritte in una mappa diffusa dal lente. Tra queste gli snodi più importanti di collegamento cittadino, tra cui Corso Umberto, Piazza Palazzo, Piazza Battaglione degli Alpini, Corso Vittorio Emanuele, Corso Federico II, Piazza Duomo, Pia Garibaldi, Piazza Chiarino, Piazza Santa Maria Paganica, Via della Genca e Costa Mandatario. Il giorno 24 dicembre, come anticipato da questa emittente, sono stati introdotti limiti al consumo di alcolici per evitare gli assembramenti del tradizionale aperitivo della vigilia del capoluogo. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche su tutto il territorio comunale, dalle ore 15 alle ore 24, fatta eccezione per il servizio al tavolo, da svolgersi esclusivamente all'interno dei locali che non dovranno superare il limite di capienza. L'ordinanza nasce dalla consapevolezza che non aspetta il sindaco imporre il coprifuoco, né si tratta di un evento direttamente organizzato dal comune per cui è annullabile, come da più parti è stato detto. Abbiamo fatto un tavolo di confronto che ha visto insieme prefettura, forze dell'ordine, la questura che ha la competenza della gestione del tavolo tecnico sull'ordine pubblico, l'azienda sanitaria locale e le associazioni di categoria. Il punto di equilibrio è stato quello di consentire il rito dell'aperitivo della vigilia, di farlo con delle regole, di cercare di prevenire gli assembramenti attraverso il divieto di somministrazione quando gli effetti degenerativi dell'aperitivo si mostrano in maniera più pesante, quindi nel pomeriggio. Sarà vietato il boteglione, quindi la gente non potrà portare da bere da casa o acquistarlo nei supermercati. Viene fatto salvo naturalmente l'attività di enoteche, ristoranti, di tutti coloro che lavorano correttamente nel rispetto delle norme di contenimento del Covid. Saranno infine rafforzati i controlli anche del tasso alcolemico ed è prevista una rigorosa attività sanzionatoria.